Per portare via l'oro dall'azienda per la quale lavorava aveva studiato una sofisticato stratagemma far passare le verghe attraverso un foro che una volta ospitava delle vecchie tubazioni della gas un modo per eludere così il sistema di sorveglianza ma l'operaio infedele, una 57enne a retino incensurato è stato scoperto e per lui ovviamente sono scattate le manette. Le indagini della squadra mobile di Arezzo guidata dal dottor Francesco Morselli erano partite a seguito della denuncia del titolare dell'azienda Orafa di via Enrico Rossi immediata periferia retina insospettito da pesanti ammanchi 200.000 euro all'anno circa un chilo di metallo prezioso al mese. Grazie a telecamere ed appostamenti i poliziotti sono riusciti a risalire al responsabile. Il 57enne infatti inseriva le verghe d'oro nel foro delle vecchie tubazioni che collegano l'interno all'esterno dell'edificio, poi usciva, prelevava il metallo e lo portava negli spogliatoi, un'area non soggetta a controlli. È così scattato il blitz nei giorni scorsi, gli agenti si sono appostati nel piazzale dell'azienda ed hanno atteso il 57enne per poi arrestarlo, l'uomo non ha posto resistenza. All'interno della tracolla aveva nascosto bendo e verghe d'oro da 14 carati circa un chilo per un valore di 30.000 euro. Altro metallo, quasi 500 grammi, è stato poi ritrovato all'interno dell'abitazione dell'operaio per un valore di circa 25.000 euro. L'uomo si sarebbe giustificato parlando di difficoltà economiche dovute al gioco d'azzardo. Il 57enne è stato processato per direttissima, ha patteggiato a un anno con la sospensione della pena. Si tratta del secondo caso di furto d'oro in azienda nel giro di alcune settimane nella provincia di Arezzo. Lo scorso 20 marzo, infatti, un altro operaio era stato arrestato dopo essere stato sorpreso con lamine d'oro nascoste nel portafoglio e circa 90 chili d'argento in grani nascosto tra la macchina dove lavorava e la propria abitazione.